Finisce 1-1 tra San Gemini e Foligno nella gara valida per il campionato di promozione Girone B con il Foligno in maglia bianca e il San Gemini invece nella sua consueta tenuta rosso-blu. C'è subito questo lancio che a chiamare in area di rigore Giovannetti ma esce molto bene il portiere del Foligno. Ancora la squadra di casa pericolosa nelle seconde palle e in bucata esce bene l'estremo difensore dei Falchetti. Foligno in avanti con il cross al centro, vola il portiere del San Gemini ma la sta per combinare grossa perché la palla rimpalla su un giocatore avversario. Finisce così un primo tempo non trascendentale allo stadio di San Gemini e andiamo alla ripresa dove un pochino di controsole ci abbaia nelle nostre immagini. Dunque si riparte con il risultato ad occhiali nella ripresa però come vedete dalla sovrimpressione in effetti ci sarà un gol per tempo. Arriva subito il primo gol perché al dodicesimo il Foligno si porta in vantaggio. C'è prima questa opportunità per i Falchetti poi questo lancio in area di rigore, il portiere del San Gemini esce a branca il pallone in presa. Ma dicevo del vantaggio del Foligno realizzato lo vedremo tra qualche istante nel nostro montaggio. con Di Eng che inizia l'azione e poi c'è l'intervento falloso del direttore di gara, il calcio di punizione, la respinta e Di Eng in precario equilibrio riesce a spingere il pallone. Dunque al dodicesimo Foligno in vantaggio poi rimane anche un pochino dolorante a terra Di Eng fatto sta che il gol viene concesso dal signor Padalino di Terni. Andiamo intanto con le immagini a una nuova azione da parte del San Gemini con Vicky che aveva preso il pallone e poi l'autore del gol che deve subire anche un'ammunizione. Calcio di punizione per il San Gemini con la battuta del giocatore più talentuoso di casa. Si va vedete anche con qualche sceneggiata francamente anche abbastanza stucchevole in questo caso. Poi rifinisce a terra intanto scatta un cartellino giallo questo e poi scatta invece anche il rosso perché le stupidaggini non bisogna farle nemmeno reiterarle e quindi l'arbitro riesce e decide di espellere Giovannetti quindi togliendo il San Gemini uno dei migliori giocatori arriva anche il portiere addirittura dalla sua porta a protestare e fatto sta che l'arbitro è irrimovibile e va ad espellere il giocatore. Il Foligno potrebbe con lo stesso Dieng andare ad approfittare invece qui è bravo il portiere finestra a dire di no. Sostituzioni nel Foligno, calcio di punizione con la palla che viene messa in area di rigore dove nessuno riesce ad arrivare puntuale all'appuntamento. Poi ci sono anche delle proteste con Vicky che vedete va a parlare con un proprio avversario. Ancora il Foligno in area di rigore, palla buona, bravissimo finestra che esce per evitare il 2-0 mettendo in calcio d'angolo. Poi dalla bandierina il colpo di testa, il portiere del San Gemini si ritrova il pallone tra le mani. Poi ancora San Gemini, incursione in area di rigore, finisce a terra il numero 10 della formazione di casa. Si tratta di Grignani, il direttore di gara, dice che è penalty e ha il 45esimo, cosa che succede spesso al San Gemini. Va a pareggiare la partita con il penalty, trasformato da soli. A prescindere l'andamento della partita, quando la partita si indirezione a una certa direzione, va chiusa. A prescindere di quello che possa essere stato, come siamo arrivati a quella situazione, quando resti in vantaggio numerico, in vantaggio di un gol, con le occasioni che naturalmente vengono di base quando ci sono più spazi, non puoi fare quello che abbiamo fatto noi. Va chiusa. Questo ancora ci manca, perché se ancora in alcuni aspetti c'è qualche ragazzo che è un bambino, perché altre fattiche è questa, io l'ho detto anche in una faccia, che poi ci possiamo raccontare tante cose con loro. Se non c'è personalità di fare mille cose, non si può fare questo sport. Faccio i complimenti ai ragazzi, perché comunque rimanere in nove contro una squadra come il Foligno, che comunque è una squadra che gioca a calcio, è una squadra che mette in difficoltà, e crederci fino alla fine, devo fare solo i complimenti per il tanto cuore e la tanta grinta che ci hanno messo in campo. Tralascio la direzione arbitrale, perché se vai a leggere il tacquino tra muniti e spulsi, sembra che sia stata una guerra, ma assolutamente non è la partita stata indirizzata sul nervosismo dalla terna arbitrale. Purtroppo questo è, noi ci prendiamo il punto, il primo pareggio che ci fa comodo, continuiamo la striscia positiva e ripeto, faccio i complimenti ai ragazzi perché ci hanno messo tutto in campo, giocando tanti fuori ruolo e siamo contenti della prestazione e del risultato.